Ieri, sabato 29 giugno, intorno alle 20.30, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Spelologico ha concluso un complesso intervento di recupero di un uomo di 52 anni e sua figlia di 10 residenti a Pordenone. I due erano scivolati per 30 metri all'interno di una stretta cavità sul Sass de Rocia. L'allarme è stato lanciato alle 16.10 da alcuni ragazzi che, preoccupati per il ritardo di padre e figlia, hanno sentito le loro grida di aiuto provenire dalla gola, larga tra i 40 e i 10 centimetri. La ricostruzione dei fatti indica che mentre passeggiavano dietro il bivacco, Pian delle stelle, la bambina è scivolata in profondità e il padre è caduto nel tentativo di salvarla. Sul posto si trovavano casualmente due soccorritori che hanno cercato di aiutare il tecnico di elisoccorso. Quest'ultimo era stato sbarcato dall'eliambulanza e si era immediatamente calato nella cavità, mentre una squadra del soccorso alpino della Val Pettorina arrivava in supporto. La bambina con un sospetto trauma cranico e un taglio sul volto è stata riportata in superficie e per prima è trasportata all'ospedale di Treviso. L'uomo incastrato in fondo alla gola vicino a un masso ha reso necessario l'intervento del soccorso speleologico, trasportato sul luogo in elicottero. Dopo alcune manovre tecniche durate un paio d'ore i soccorritori sono riusciti a liberarlo. L'uomo lamentava dolori alla schiena e alle gambe. Ricevute le prime cure urgenti sul posto è stato portato all'ospedale di Belluno con un sospetto politrauma.